Affrontiamo ora un nuovo argomento. Tante volte mi avrete sentito parlare di ILVA, ma non sono il solo. Oramai la questione ILVA e le problematiche ambientali sono così la notta tristemente dominante di Taranto. E come ci sono le denunce, così è giusto anche che vi siano le proposte, ossia quei progetti, quelle ipotesi che poi sono realtà, come in questo caso, che potrebbero comunque far registrare una fortissima diminuzione nell'ambito dell'inquinamento. Siamo con l'ingegner Antonio Mitidieri, ingegnere meccanico tarantino, che è specializzato nell'ambito della progettazione di impianti industriali. Ha operato molto nell'indotto dell'ILVA. Un tarantino che, come vedremo nel corso di questa chiacchierata, ha presentato, ha redatto un progetto di modifica di un piccolo impianto siderurgico chiamato doccia. Premetto che io non sono un tecnico della materia e quindi ho cercato di documentarmi e quindi mi dovranno essere perdonate delle espressioni a tecniche. Però ecco l'obiettivo, la mission di questa trasmissione è fornire e rendere pubblico un progetto dal quale si potrebbero trarre numerosi benefici. E allora, ingegnere, intanto noi accogliamo con piacere la sua presenza. È un polifermo itinerante. Quando ci sono delle realtà da scoprire, da valorizzare, noi ci muoviamo. E allora, ingegnere, ci parli di questo progetto. Lei è un tarantino, ama Taranto, specializzato del settore. Ci dica anche qualcosa sulla sua attività, sulla sua carriera. E poi andiamo subito in Medias Res. Ci interessa questo progetto chiamato doccia. Grazie per l'occasione che mi stai offrendo. Io sono nato a Taranto, sono figlio di Meridionali. Mi sono laureato a Bari e ho lavorato sempre a Taranto. Però, a differenza di tanti altri Meridionali, non sono abituato ad aspettare che il governo venga a risolvere tutti i nostri problemi. Preferisco lavorare su delle proposte mie. Infatti, proprio di questi giorni, di questi mesi, tutte le varie querelle, comune, regione, governo, aiuti, interventi, lei dice che esiste un progetto dove in maniera, ossere dire, interna, tra virgolette, potremmo, non dico risolvere il problema, ma fornire delle soluzioni. Andiamo, ecco, il suo progetto che dalla presentazione chiamasi doccia. In cosa consiste? Sì, la doccia è un piccolo impianto che sta a Valle delle Cocherie, che quindi è la zona un po' la più sporca dell'Ilva. Serve per spegnere il carbone incandescente che viene fuori dopo la cottura, dopo la trasformazione a coc. Consiste in un spegnimento di questo carbone perché altrimenti non potrebbe proseguire nel ciclo, altrimenti brucierebbe i tappeti dei nostri trasportatori. E questo è un fenomeno connesso anche con quelle nuvole di vapore acqueo denso che si vedono ad intervalli regolari sollevarsi dallo stabilimento e che si vedono anche dalla città. È vapore acqueo, senza dubbio, ma insieme trascina sicuramente polvere di carbone. È un mix, diciamo, una miscela, dico, un mix di sostanze? Sicuramente la maggior parte è il vapore acqueo. Trascina, come dicevo, certamente polvere di carbone perché viene misurata la quantità e c'è una norma precisa che ne limita l'emissione. Non viene misurato tutte le altre componenti che probabilmente ci sono di inquinanti. Ecco, professore, dottor Ingegner Mitidieri, c'è anche, ho cercato di documentarmi, un discorso di parziale recupero energetico. Sì, c'è la possibilità di recuperare il calore che viene oggi disperso dal vapore. Il calore disperso in atmosfera che probabilmente va anche a variare il microclima viene con questo progetto che ho approfondito per circa tre anni recuperato facendo incrementare la temperatura dell'aria che va nei bruciatori o nei cowper e in questo modo è matematico, insomma, si riduce il consumo di combustibile, quindi il consumo di metano. Ecco, è un progetto certamente che lei ha elaborato e ha partorito, ma evidentemente si è avvalso di una serie di collaboratori. Il suo è uno studio molto avviato e molto ben strutturato, infatti, mentre noi stiamo qui dialogando, c'è la figliola, sua figlia e la sua figlia, che il nome? Cristina, è Cristina. Che è sempre, già quando ci siamo conosciuti, ho visto era molto precisa proprio nella illustrazione, nel fornirmi il materiale che ho cercato nei limiti delle mie conoscenze di approfondire. Dicevamo, ecco, tornando a quei professionisti che l'hanno sostenuta, l'hanno appoggiata, che hanno sposato così idealmente e anche materialmente questo progetto. Sì, io sono grato a molti tecnici dell'ILVA che mi hanno incoraggiato e mi hanno spiegato i dettagli operativi dell'impianto, come funziona attualmente. Sono parecchi. Pochissimi sono invece quelli che mi hanno tentato di dissodermi, ma certamente non per motivi tecnici, ecco. Ma soprattutto sono grato al professore Lippolis, del Politecnico di Taranto, perché mi ha dato una mano sia in tutte le verifiche, sia nei dimensionamenti, e soprattutto perché adesso sta preparando una pubblicazione universitaria che andrà su una rivista americana di ecologia a firma congiunta mia e sua. E allora abbiamo deciso di realizzare un collegamento telefonico con il professor Antonio Lippolis, che è docente presso il Politecnico di Bari. Allora, professore, abbiamo parlato con l'ingegnere Mitidieri di questo progetto, del progetto di cosiddetta doccia. Ecco, l'importanza, l'utilità proprio scientifica, tecnologica di un si fatto progetto. L'obiettivo principale è quello di ridurre le emissioni di polveri inquinanti in atmosfera, perché attualmente queste docce che servono per raffreddare il cocco dopo la cocheria fanno passare allo stato gassoso l'acqua di queste docce e questo vapore viene emesso in atmosfera e il vapore indiscutibilmente trasporta una serie di polveri che poi sono uno dei problemi di Taranto. Ci sono altre parti dove si usano tecniche differenti, non c'è l'emissione. L'idea è quella di farlo in ambiente chiuso, poi refrigerare il vapore acqueo e quindi condensarlo e poi è possibile passarlo in filtri e così via, quindi trattenere le polveri e poi riutilizzare il vapore per i successivi raffreddamenti del cocco. Diciamo soprattutto l'ingegnere Michigieri che diciamo l'ideatore ha presentato tre possibili soluzioni che dovrebbero essere collegate anche con un recupero energetico, però diciamo il discorso del recupero energetico è più complesso perché chiaramente essendo vapore a temperatura non molto elevata il rendimento delle soluzioni per il recupero energetico non è molto elevato, quindi questo poi bisognerà valutarlo anche da un punto di vista economico se effettivamente ci può essere una convenienza, sicuramente invece c'è la convenienza dal punto di vista dell'inquinamento, del trattenere, le polveri non emetterle in atmosfera. Professore noi la ringraziamo per questo suo contributo, era opportuno anche che ovviamente lei in qualità di esperto della materia, di docente del Politecnico, ecco ci illuminasse diciamo su questo progetto. La ringraziamo vivamente e la salutiamo. Grazie, arrivederci. Ecco a questo proposito c'è anche da dire che noi abbiamo tante eccellenze, tante risorse umane, professionali, tarantine meridionali, tarantine pugliesi, ecco è giusto che lei come anche altri professionalmente diate il vostro contributo con un quid pluris, con un valore aggiunto, quale appunto permettetevi l'orgoglio della tarantinità, dell'appartenenza, del legame con il territorio. Noi tarantini siamo un po' esterofili, no? San Cataldo è amante dei forestieri si suol dire. Sì, invece non teniamo presente che moltissimi tecnici tarantini a qualsiasi livello professionale si sono recati all'estero, in Brasile, in Thailandia, in tante parti del mondo ad addestrare altre maestranze siderurgiche. Ormai dopo 50 anni di presenza dello stabilimento a Taranto c'è un livello di competenza tecnica molto diffuso e molto elevato, certamente non inferiore a quello che c'è nelle altre città europee siderurgiche. Abbiamo parlato di inquinamento, si parla tanto di norme AIA, ma quali sono, cosa prescrivono le norme dell'AIA per quanto riguarda le emissioni delle docce? La norma AIA è molto precisa a riguardo. Il vapore deve contenere al massimo 25 grammi di polvere di carbone per ogni tonnellata di carbone spenta sotto la doccia. Quindi siccome il vagone porta 20-22 tonnellate sono circa mezzo chilo ogni emissione, ogni spegnimento. C'è uno spegnimento ogni 20 minuti, quindi circa 70 spegnimenti al giorno, 35 kg di polvere al giorno per ogni impianto, 9 tonnellate all'anno circa. E tenga presente che ci sono circa, mi pare siano 8 impianti, 8 docce nello stabilimento di Taranto in funzione da 50 anni. Ora, questo non è la soluzione di tutti i problemi, però si faccia un po' di conto di quante tonnellate con un impianto del genere, perché noi andiamo ad annullare totalmente le emissioni di polvere in atmosfera. Quante tonnellate in meno di polvere e di carbone possiamo emettere in aria con questo impianto innovativo da me progettato? Ecco, andando ancora ad altri vantaggi che il progetto offre rispetto alle attuali tecniche. Sì, l'altro vantaggio è la possibilità di recuperare l'energia e quindi preriscaldare l'aria, come dicevamo prima. Il vantaggio può essere stimato in circa 21.000 TEP, 21.000 tonnellate di petrolio equivalente. Sono circa un valore di 100 euro per ogni tonnellata di petrolio equivalente, per cui sono circa 2 milioni all'anno. Non sono una grossa cifra, però almeno sono più del zero, perché gli impianti attuali non recuperano proprio nulla. Buttano soltanto il vapore caldo in atmosfera ed è uno spreco. Quindi, tornando a soffermarci sul discorso del recupero energetico, il suo sistema offrirebbe rispetto appunto agli altri attuali dei vantaggi più consistenti? Sì, ogni doccia emette 9 tonnellate di polvere di carbone in meno in atmosfera e ogni doccia può far recuperare un po' di energia termica, un po'. Voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Un bel progetto, tante idee, ma che margini di sicurezza ci sono sulla fattibilità dello stesso e sulla perfetta riuscita? Cioè, sul fatto che ci siano risultati considerevoli, benefici considerevoli, visto che stiamo parlando di riduzione dell'inquinamento? I risultati sono sicuri, a parte che sono stati verificati, come dicevamo, dal Politecnico di Bari, ma sono sicuri anche perché gli elementi costituenti l'impianto, che sono complesso nella sua generalità, ma i singoli elementi sono elementi noti, si tratta di scambiatore di calore, quindi è una tecnologia molto conosciuta, il cui risultato è evidente. Per cui noi tramite questi scambiatori dimensionati opportunamente collegati e funzionanti in maniera sincrona tra di loro, combinati tra di loro, portano a condensare il vapore, quindi non abbiamo più emissione di vapore e abbiamo la possibilità poi di separare il carbone, la polvere di carbone dall'acqua di condensazione, invece non è possibile trattare, depurare un vapore acqueo e quindi è molto semplice depurare un'acqua o aria, è molto difficile depurare il vapore, quindi questo prima condensa il vapore e poi in una maniera abbastanza semplice lo purifica. Ingegnere, prego per questo vapore, non so se ho detto bene. Ingegnere, viviamo il dramma dei Wind Days, Taranto purtroppo è assurda alle cronache nazionali per questa vicenda, è davvero triste pensare che i bambini, gli studenti debbano rimanere chiusi in casa, le scuole debbano rimanere chiusi quando lo spolverio, appunto, favorito, acuito dal vento in quei giorni crea dei danni, crea delle realtà tali e tante che ci si chiede apertamente di evitare i contatti con l'esterno. La doccia di nuova concezione che lei ipotizza, in che modo potrebbero ridurre, se nel caso in cui dovessero riuscire, in che modo potrebbero ridurre gli effetti dei Wind Days? No, non ha nessun effetto sul Wind Days perché le docce vanno in funzione ogni 20 minuti circa, tutti i giorni, giorno e notte, tutti i giorni dell'anno. Quindi le minori emissioni sono un fatto continuo, continuativo, sarebbero un fatto continuativo con un impianto di nuova concezione, ma non sono correlate soltanto ai giorni di forte vento. In quei giorni avremmo un abbassamento della polverosità dovuta al fatto che comunque c'è 35 kg di polvere in meno ogni giorno, ma non c'è riduzione dell'effetto dovuto allo spolverio del vento. Andiamo ai costi, costi di realizzazione e di gestione, perché uno dice sì abbiamo fatto, abbiamo presentato un progetto, abbiamo individuato appunto i benefici, però poi dobbiamo vedere proprio la fattibilità economica. Sì, siamo stati molto attenti anche a questo. Il costo complessivo dovrebbe essere più o meno paragonabile ai costi attuali di quelli che sono i costi proposti, richiesti dal miglior costruttore tedesco di docce. Per quanto riguarda la manutenzione, i costi di gestione sono comunque bassi e anche la manutenzione è abbastanza semplice. Non c'è niente di complicato, si tratta di scambiatori di calore e di pompe, niente di particolare. Ora, mentre ci sono altre tecnologie, che è lo spegnimento a secco, che è estremamente costoso, non viene adottato per questo motivo, invece questo avrebbe costi di investimento, di gestione e di manutenzione molto bassi. Ora dobbiamo calare questa realtà, questo progetto nella realtà di Taranto. Cosa fare per impiantare, passatemi l'espressione, per realizzare questo progetto qui a Taranto? Taranto schiaffeggiata dall'inquinamento, ecco, cosa fare per far sì che questo progetto possa proprio qui nascere, proprio nella nostra città, partorito questo progetto da un tarantino? Ma secondo me si tratta di modificare la norma AIA. L'AIA non è eterna, va a scadenza e soprattutto l'AIA può essere modificata quando c'è una tecnologia nuova, perché ogni impresa quando deve fare un investimento, quando deve costruire una nuova doccia, non si azzarda ad adottare una nuova tecnologia se non è costretta da una norma cogente e quindi è proprio il caso, in questo caso direi, di chiedere di modificare la norma AIA. Ecco, ingegnere, siamo quasi verso la fine. Il suo appello, perché poi io ritengo che le istituzioni non dico che debbano credere a questo progetto, ma almeno prenderlo in considerazione, no? Quindi anche stiamo parlando di tante realtà, tante situazioni, ma sarebbe opportuno che Comune e Regione, che sono gli organi diciamo locali, ovviamente poi certe decisioni si prendono in alto loco, si prendono nei ministeri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e quant'altro. Però ecco, questo progetto io ritengo che debba essere preso in considerazione, debba essere valutato, debba essere studiato, ecco considerato dagli amministratori locali. Noi come organo di informazione, come realtà mediatica, desidereremmo creare questo contatto tra la sua realtà, il suo, questo prezioso contributo e chi è preposto alla difesa del territorio, in ambito ambientale innanzitutto. Sì, io sono un tecnico, non sono un politico e quindi il progetto proposto non ha un colore, non è né di destra né di sinistra, tende soltanto a migliorare la qualità dell'aria della mia città e speriamo anche di tutte le altre città del mondo. Bene, allora ingegnere, ci salutiamo qui e solo un arrivederci perché io ho un carattere che così, sono abituato a, come si suol dire, non mollare l'osso, a non mollare la prida, nel senso che se c'è un progetto del genere è giusto che venga considerato e nel momento in cui si verificano scientificamente i benefici è giusto anche che il progetto abbia realizzazione, perché finora da mesi e mesi, da anni, si stanno facendo tante di quelle polemiche, di quei battibecchi, di quegli scontri frontali, per carità c'è una realtà particolarissima a Taranto, tutela dell'occupazione, tutela dell'ambiente, però io dico se c'è un qualcosa che operativamente, se esiste, lo dico ecco in termini volgari, la cura, la pillola, tra virgolette, che può curare il male o se non può abbattere il male comunque lo può arginare sensibilmente, perché non sperimentare, in medicina lo si fa, esistono le cure sperimentali, non vedo perché anche nell'ambito dei colossi siderurgici non si possa avere un approccio rispetto a progetti del genere. È sciocco continuare a pagare all'estero le capacità tecniche estere quando in Italia siamo capaci di fare meglio degli altri, insomma. Bene, e allora ci fermiamo qui con questa parte di trasmissione, ci salutiamo, dicevo un arrivederci e cercheremo in ogni modo di far sì che queste idee possano dare un contributo fattivo al nostro territorio. Siamo stanchi di morire di inquinamento, ma siamo anche stanchi di sentire le solite polemiche, vogliamo i fatti e questo mi sembra un progetto abbastanza fattivo, abbastanza realizzabile. La saluto ingegnere. Grazie. Ringraziamo e salutiamo anche perché poi, ecco qui, chiudo veramente, c'è l'ingegnere che è come dire la punta di un iceberg di tanto lavoro, però poi al di sotto di questa punta di un iceberg ci sono collaboratori che danno il loro prezioso contributo, c'è la figliura Cristina, come abbiamo detto prima, eccola qui, era intenta col suo PC a programmare, a prendere appunti e quant'altro. Ci fermiamo qui, è stata una bella esperienza, io che ho fatto, mi sono speso in ambito ambientale, dobbiamo partire dai fatti concreti. Pubblicità.